Ricordi, non c'era stato un libido, stasera si trattò a casa mia, così cominciava la forza e già ti girava la testa. Ricordi, non contabano i altri, seguivo con los guardos, ma solo te. Se voi, te accompagno, se voi, lo stesso film va, che rimane bene soli, io metri. E poi, c'è niente per via perché, amare anche come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce del segreto, per noi con amore proibito, ormai resta solo un bicchiere. Io non ricordo da, c'entare via. Lo so, ricordate, lo so, mi sembra una pozzia. Sprengare solo senza compagni amare. Ma io, io devo festeggiare la fine di un amore. C'è niente per l'amore. C'è niente per l'amore. C'è niente per l'amore. E questa sera, la chaffa. Grazie a tutti, grazie Camerota Giacentino, gentilmente affetto dal bar San Domingo, è un onore Apriamo questo champagne e brindiamo questa splendida sedata artistica musicale che Giacentino in tour 2011 insieme a Rossi Bosiello ci ha regalato per questa enesima manifestazione in rassegna per estate 2011 programmazione della Proloco di Camerota e dell'assessorato Commercio e Turismo Stappo? Stappo a tutto il pubblico che ha iniziato a tutti Bravo! Bravo! A luglio, a luglio! A ragazzi! A Rossi e a questo pubblico, a prendere la camerata, a questa piazza e a questo tour di manifestazioni che vedranno entro il 31 di agosto la conclusione e per un appuntamento alla prossima estate